Ciao a tutti e a tutte amici e amiche musicisti siciliani. Io sono Antonio Merola, sono percussionista e maestro di Roma e sarò lì il 4 maggio a Catania, presso l'associazione Il Ballatoio per tenere una masterclass intensiva di Ritmo Consegni. Ritmo Consegni è un linguaggio di segni composti con le mani, ideato per dirigere le improvvisazioni musicali. Con questi segni il direttore genera e organizza reazioni specifiche nei musicisti, facendo in modo che l'improvvisazione si converta in composizione in tempo reale. È un metodo intuitivo ed efficace e anche divertente per comporre musica in maniera collettiva. Infatti è utilizzato in diversi paesi nel mondo sia con scopi musicali e artistici ma anche didattici, terapeutici e di team building. Per questo non perdetevi l'occasione di conoscere questo rivoluzionario metodo per improvvisare e per giocare con la musica. Ritmo Consegni, a Catania il 4 maggio, associazione Il Ballatoio. A presto!